Più scelta, più stile, più emozioni. Tutti i colori dello shopping ti aspettano in un centro conveniente e divertente, a misura di famiglia. È il Centro Le Grange, un grande per mercato Carrefour, 50 negozi e 8 megastore. 22 e 23 aprile ti aspetta Verde Fiera, la festa dei fiori, tante idee per il tuo giardino, a ingresso gratuito. Centro Commerciale Le Grange, Piedimonte San Germano, sempre aperto, domeniche comprese.